ci troviamo a casa falpe lezzero ve lo ricordate? in qualche farm news fa e in alcuni altri video vi ho mostrato le fasi di sviluppo di questo fantastico cartiere ora ve lo mostro praticamente finito siamo qui oggi e abbiamo appena completato l'installazione delle porti interne delle Miracquadra Garofli stupende però vi voglio far fare un veloce tour della casa non è ancora arredata ma Alessandra e Gardino la stanno ultimando e queste prossime settimane si trasferiranno nella loro nuova magnifica abitazione ora vi mostro la meraviglia di questo lavoro che ha un affaccio sul lago di Como che è davvero davvero incantevole partiamo da qui, venite, questo è l'elemento più importante di questa casa un magnifico alzante scorrevole che separa e collega l'ambiente interno alla magnifica terrazza realizzata all'esterno la quale si gode, come potrete vedere, dall'incantevole lista sul lago più bello del mondo, il lago di Como questo serramento non ha alcuna chiusura oscurante esterna, l'abbiamo installato con le spalle isolanti termoglock abbiamo lasciato, come vedete qui, la predisposizione per la zanzariera in modo che si possa installare e avere un corpo unico con le spallette è stato completamente realizzato a filo muro ed è tutto altamente isolante come vedete il serramento alzante scorrevole ha una particolarità, ve lo chiedete in tantissimi e qui ve la mostro a questo maniglione si chiama alzante perché come vedete quando la leva viene abbassata il serramento si alza e scorre andando fino alla posizione che preferite, fino alla chiusura per poi rifiudersi completamente e isolare termicamente e tipicamente alla grande il nostro foro finestra vi faccio vedere un'altra cosa fare di questa casa, la cucina, bellissima, devo dire complimenti ai nostri clienti per la scelta dell'arredo ma complimenti più di tutto per la scelta di questo magnifico Prolux Evolution che come vedete incornicia un panorama esterno davvero magnetico la scelta migliore che potevamo fare insieme ai nostri clienti, infatti la Prolux Evolution garantisce una massima luce un profilo ridottissimo e vi faccio sempre vedere perché secondo me è un elemento davvero di design molto bello la maniglia centrale esattamente si identifica e questo in un contesto come quello che vedete attorno a me veramente crea quel valore aggiunto che a mio avviso valorizza tutta l'abitazione in questo caso vi faccio vedere anche una soluzione ormai che dovrete conoscere tutti le nostre famose tapparelle fatte domotiche domotiche perché abbiamo anche in questa casa scelto una doppia velocità del motore una chicca che noi proponiamo ai nostri clienti che seguono il nostro sistema di lavoro è il motore a velocità ridotta guardate se tengo premuto a lungo il tasco la tapparella come sale lentamente e sentite non si sente niente c'è un silenzio e un comfort veramente davvero veramente davvero magnifico questi sono quei piccoli particolari che nel nostro sistema di lavoro consentono di offrire ai nostri clienti quelle scelte un gradino sopra tutti gli altri e che nessuno consiglia a loro ma non si ora venite a vedere degli elementi davvero fantastici le nostre porte terre qui abbiamo la prima porta mira quadra pugnata con tre elementi la maniglia completamente bianca area 51 è stata scelta da Alessandra con un tocco di tagli in giù per valorizzare le sue porte e in particolare un magnifico cioè l'anca esattamente a filo delle mostrine quindi un filo muro diciamo così possiamo renderlo un filo muro che permette a questa porta di entrare e di farci entrare nella zona morte di questa abitazione come vedete ci sono tutte le nostre mira quadra installate venite vi accompagno qui in questa zona dove abbiamo una magnifica finestra che dà sul giardino all'esterno guardate se non è uno spettacolo fantastica anche qui mono alta assenza di traversi massima luce sotto la vice elettrata che più di così davvero non si può maniglietta per l'esterno in modo che quando uscite in giardino potete richiuderla semplicemente e tenere la finestra sempre accostata veramente particolari che a nostro avviso fanno la differenza apertura ad alta ribalta anche qui in un sistema totalmente equipmentato abbiamo fornito dalle spallette termo acustiche con la predisposizione per zanzaliere e tappanelle ai serramenti alle tappanelle ai motori e torniamo alle nostre fantastiche mira quadra che in questa versione hanno il complanare dal lato interno perciò vi faccio entrare in questa che sarà una delle camere dell'abitazione e vi faccio vedere la porta magnifica che ha il complanare anche a mostrine dalla parte interna della stanza veramente 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 anche qui è una finestra di una stanza guardate che meraviglia non vi fa invidia non vorreste essere anche voi in questa fantastica casa devo dire che il panorama da qui è davvero davvero scopendo torniamo nella zona giorno e vi saluto facendovi vedere anche qua nel frattempo come vedete a terra ci sono i battiscopa sempre grossoli che devono essere ancora ultimati dopo la posa dei serramenti anche qui ma abbastanza una Prolux Evolution ancora che guardando dal panorama esterno veramente qualcosa di incantevole non mi sento mai di ripeterlo è incantevole perchè è incorniciato in profili Prolux Evolution veramente magnifici non so se si nota anche l'effetto di colore della vendatura bianca appena accennata del menu che non è troppo in passivo molto tenue a darvi qui un po' in più del design della vostra casa ricordatevi che questi sono tutti particolari e grazie a noi sul sistema di lavoro potrete averne nella vostra abitazione venite di nuovo con me e torniamo nella zona giorno con il nostro Prolux della cucina il nostro alzato estremole del biancazzo il tavolo recuperato dai clienti che tra qualche settimana sarà il loro tavolo da panso e la porta d'ingresso per concludere una magnifica porta blindata di design guardate la perfetta geometria di questo pannello con un profilo ridotto un'anca completamente rivestita dal pannello un colore scelto ad hoc con l'albo A16 che si abbina ai colori dei serramenti di questa casa e soprattutto ripeto questo dettaglio di pannello interno che è una picca anche qua ulteriore a tante che vi ho fatto vedere che abbiamo consigliato il nostro cliente e che rende la porta d'interno il primo vero elemento di design di questa casa io vi saluto, vi faccio vedere anche qui il pannello esterno che anche qua è un pannello tradizionale con un colore tradizionale con una bugna che rende questa porta all'esterno una porta diciamo classica che pare essere una delle tante porte ma che in realtà è come vi ho fatto vedere una porta davvero di design davvero particolare siamo a 26 gradi, si andiamo con me, ti riporto qua sul terrazzo per darvi i saluti da questa magnifica casa palpe l'exeno passando dal nostro alzante scorrevole e con il panorama del lago di Congo alle mie spalle in questa giornata di sole magnifico io vi ricordo di seguire tutti i nostri lavori, le nostre case palpe sul nostro sito internet www.palpe.it e www.casapalpe.it iscrivetevi al nostro canale youtube dove ci trovate, dove troverete tutti i lavori che abbiamo eseguito ringrazio i nostri clienti Alessandro e Gardino per averci scelto e aver affidato a noi la loro casa e avergliela trasformata in questo magnifico modo e do un saluto a tutti e alla prossima, ciao! vi invitiamo tutti a venirci a trovare nella nostra sede a Erba e vi ricordo il nostro motto perché casa palpe è un modo di vivere! ciao